Il Visconte di Mezzato, di Italo Calvino. Quinto. Quelli erano per me tempi felici, sempre per i boschi col dottor Treloni, cercando gusci d'animali marini diventati pietre. Il dottor Treloni era inglese, era arrivato sulle nostre coste dopo un naufragio, a cavallo d'una botte di Bordeaux. Era stato medico sulle navi per tutta la sua vita e aveva compiuto viaggi lunghi e pericolosi, tra i quali quelli con il famoso capitano Cook, ma non aveva mai visto nulla al mondo perché era sempre sotto coperta a giocare a tre sette. Naufragato da noi, aveva fatto subito la bocca al vino chiamato Cancarone, il più aspro e grumoso delle nostre parti, e non sapeva più farne senza, tanto da portarsene sempre a tracolla una borraccia piena. Era rimasto a Terralba e diventato il nostro medico, ma non si preoccupava dei malati, bensì di sue scoperte scientifiche che lo tenevano in giro, e me con lui, per campi e boschi giorno e notte. Prima una malattia dei grilli, malattia impercettibile che solo un grillo su mille aveva e non ne pativa nessun danno, e il dottor Treloni voleva cercarli tutti e trovarla cura adatta. Poi segni di quando le nostre terre erano ricoperte dal mare, e allora andavamo caricandoci di ciottoli e silici che il dottore diceva essere stati, ai loro tempi, pesci. Infine, l'ultima grande sua passione, i fuochi fatui. Voleva trovare il modo per prenderli e conservarli, e a questo scopo passavamo le notti a scorrazzare nel nostro cimitero, aspettando che tra le tombe di terra ed erba s'accendesse qualcuno di quei vaghi chiarori, e allora cercavamo d'attirarlo a noi, di farcelo correre dietro e catturarlo senza che si spegnesse, in recipienti che di volta in volta sperimentavamo. Sacchi, fiaschi, damigiane spagliate, scaldini, colabrodi. Il dottor Treloni s'era fatto la sua abitazione in una bicocca vicino al cimitero, che serviva una volta da casa del becchino, in quei tempi di fasto e guerre e epidemie in cui conveniva tenere un uomo a far solo quel mestiere. Là il dottore aveva impiantato il suo laboratorio, con ampolle d'ogni forma per imbottigliare i fuochi e reticelle come quelle da pesca per acchiapparli, e lambicchi e crogiuoli in cui egli scrutava come dalle terre del cimitero e dai miasmi dei cadaveri, nascessero quelle pallide fiammelle. Ma non era uomo da restare a lungo assorto nei suoi studi. Smetteva presto, usciva e andavamo insieme a caccia di nuovi fenomeni della natura. Io ero libero come l'aria, perché non avevo genitori e non appartenevo alla categoria dei servi né a quella dei padroni. Facevo parte della famiglia dei Terralba solo per tardivo riconoscimento, ma non portavo il loro nome e nessuno era tenuto a educarmi. La mia povera madre era figlia del Visconte Aiolfo e sorella maggiore di Medardo, ma aveva macchiato l'onore della famiglia fuggendo con un bracconiere che fu poi mio padre. Io ero nato nella capanna del bracconiere, nei terreni gerbidi sotto il bosco, e poco dopo mio padre fu ucciso in una rissa e la pellagra finì mia madre rimasta sola in quella misera capanna. Io fui accolto nel castello perché mio nonno Aiolfo si prese pietà e crebbi per le cure della gran balia sebastiana. Ricordo che quando Medardo era ancora ragazzo e io avevo pochi anni, alle volte mi lasciava partecipare ai suoi giochi come fossimo di pari condizione. Poi la distanza creppe con noi e io rimasi alla stregua dei servi. Ora nel dottor Treloni trovai un compagno come mai ne avevo avuto. Il dottore aveva sessant'anni, ma era alto quanto me. Un viso rugoso come una castagna secca sotto il tricorno e la parrucca. Le gambe, che le uose inguainavano fino a mezza coscia, sembravano più lunghe, sproporzionate come quelle d'un grillo, anche per via dei lunghi passi che faceva, e indossava una marsina color tortora con le guarnizioni rosse, sopra la quale portava a tracolla la borraccia del vino cancarone. La passione per i fuochi fatui ci spingeva a lunghe marce notturne per raggiungere i cimiteri dei paesi dove si potevano vedere talvolta fiamme più belle per colore e grandezza di quelle del nostro camposanto abbandonato. Ma guai se questo nostro armeggiare era scoperto dai paesani. Scambiati per ladri sacrileghi fummo inseguiti una volta per parecchie miglia da un gruppo di uomini ormati di roncole e tridenti. Eravamo in posti scoscesi e torrentizi. Io e il dottor Treloni saltavamo a gambe elevate per le rocce, ma sentivamo i paesani inferociti avvicinarsi dietro di noi. In un punto chiamato salto della ghigna, un ponticello attraversava un abisso profondissimo. Invece di passare il ponticello io e il dottore ci nascondemmo in un gradino di roccia proprio sul ciglio dell'abisso, appena in tempo perché già avevamo le calcagne ai paesani. Non ci videro e gridando dov'è che sono quei bastardi, corsero di filato per il ponte. Uno schianto e urlando furono inghiottiti a precipizio nel torrente che correva laggiù in fondo. A me e a Treloni lo spavento per la nostra sorte si trasformò in sollievo per il pericolo scampato e poi di nuovo in spavento per la orrenda fine che i nostri inseguitori avevano fatto. Osammo appena sporgerci e guardare giù nel buio dove i paesani erano scomparsi. Alzando gli occhi vedemmo i resti del ponticello. I tronchi erano ancora ben saldi, solo che a metà erano spezzati, come se li avessero segati. Né in altro modo potevamo spiegarci come quel grosso legno avesse ceduto con una rottura così netta. C'è la mano di chi so io, disse il dottor Treloni e anch'io avevo già capito. Infatti è fosse figlio d'una capra. In quel tempo mio zio girava sempre a cavallo. S'era fatto costruire dal bastaio Pietro Chiodo una sella speciale, a una a cui staffa egli poteva assicurarsi con cinghie, mentre all'altra era fissato un contrappeso. A fianco della sella era agganciata una spada e una stampella, e così il visconte cavalcava con in testa un cappello piumato a larghe tese, che per metà scompariva sotto un'ala del mantello sempre svolazzante. Dove si sentiva il rumor di zoccoli del suo cavallo, tutti scappavano, peggio che al passaggio di Galateo e Lebroso, e portavano via i bambini e gli animali, e temevano per le piante, perché la cattiveria del visconte non risparmiava nessuno e poteva scatenarsi da un momento all'altro nelle azioni più impreviste e incomprensibili. Non era stato mai malato, e non aveva quindi mai avuto bisogno delle cure del dottor Treloni, ma in un caso simile non so come il dottore se la sarebbe cavata, lui che faceva di tutto per evitare mio zio e per non sentirne neppur parlare. A dirgli del visconte delle sue crudeltà, il dottor Treloni scuoteva il capo e arricciava le labbra mormorando, oh oh oh, come quando gli si faceva un discorso sconveniente, e per cambiare discorso attaccava a raccontare dei viaggi del capitano Cook. Una volta provai a chiedergli come, secondo lui, mio zio potesse vivere così mutilato, ma l'inglese non seppe dirmi altro che quel, oh 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 oh, pareva che dal punto di vista della medicina il caso di mio zio non suscitasse nessun interesse nel dottore, ma io cominciavo a pensare che gli fosse diventato medico solo per imposizione familiare o convenienza, e di tale scienza non gli importasse affatto. Forse la sua carriera di medico di bordo era dovuta soltanto alla sua abilità nel gioco del 3-7, per cui i più famosi navigatori, primo fra tutti il capitano Cook, se lo contendevano come compagno di partita. Una notte il dottor Treloni pescava con la rete fuochi fatui nel nostro vecchio cimitero. Quando si vide davanti Medardo di Terralba che faceva pascolare il suo cavallo sulle tombe, il dottore era molto confuso e intimorito, ma il bisconte gli si fece vicino e chiese con difettosissima pronuncia della sua bocca di mezzata. Lei cerca farfalle notturne, dottore. Oh, milord, rispose il dottore con un fil di voce. Oh, oh, non proprio farfalle, milord, fuochi fatui, sa, fuochi fatui. Già, i fuochi fatui, spesso anch'io me ne son chiesta all'origine. Da tempo, modestamente, ciò è oggetto dei miei studi, milord. Fece Treloni, un po' rinfrancato da quel tono benevolo. Medardo contorse in un sorriso la sua mezza faccia angolosa, dalla pelle tesa come un teschio. Come studioso e la merita ogni aiuto, gli disse. Peccato che questo cimitero abbandonato com'è non sia un buon campo per i fuochi fatui, ma le prometto che domani stesso provvederò ad aiutarla per quanto me possibile. Lì domani era il giorno stabilito per l'amministrazione della giustizia e il bisconte condannò a morte una decina di contadini perché, secondo i suoi computi, non avevano corrisposto tutta la parte di raccolto che dovevano al castello. I morti furono seppelliti nella terra delle fosse comuni e il cimitero buttò fuori ogni notte una grande vizia di fuochi. Il dottor Treloni era tutto spaventato di quest'aiuto, sebbene lo trovasse molto utile ai suoi studi. In queste tragiche congiunture, Mastro Pietro Chiodo aveva di molto perfezionato la sua arte nel costruire forche. Ormai erano dei veri capolavori di falegnameria e di meccanica, e non solo le forche, ma anche i cavalletti, gli argani e gli altri strumenti di tortura con cui il bisconte Medardo strappava le confessioni agli accusati. Io ero spesso nella bottega di Pietro Chiodo perché era bello vederlo lavorare con tanta abilità e passione, ma un cruccio pungeva sempre il cuore del bastaio. Ciò che lui costruiva erano patiboli per innocenti. Come faccio? Pensava. A farmi dar da costruire qualcosa d'altrettanto ben congegnato, ma che abbia un diverso scopo. E quali possono essere i nuovi meccanismi che io costruirei più volentieri? Ma non venendo a capo di questi interrogativi, cercava di scacciarli dalla mente, accanendosi a fare gli impianti più belli e ingegnosi che poteva. Devi dimenticarti lo scopo al quale serviranno, diceva anche a me. Guardali solo come meccanismi. Vedi quanto sono belli? Io guardavo quelle architetture di travi, quel saliscendere di corde, quei collegamenti d'argani e carrucole, e mi sforzavo di non vederci sopra i corpi straziati. Ma più mi sforzavo, più ero obbligato a pensarci. E dicevo a Pietro Chiodo, come faccio? E come faccio io, ragazzo? Replicava lui. Come faccio io allora? Ma malgrado strazi e paure, quei tempi avevano la loro parte di gioia. L'ora più bella veniva quando il sole era alto il mare d'oro e le galline fatto l'uovo cantavano e per i viottoli si sentiva il suono del corno del lebroso. Il lebroso passava ogni mattina a farla questua, per i suoi compagni di sventura. Si chiamava Galateo e portava appeso al collo un corno da caccia, il cui suono avvertiva da distante della sua venuta. Le donne udivano il corno e posavano sull'angolo del muretto uova o zucchini o pomodori, e alle volte un piccolo coniglio scoiato, e poi scappavano a nascondersi portando via i bambini, perché nessuno deve rimanere nelle strade quando passa il lebroso. La lebra s'attacca da distante, e perfino vederlo era pericolo. Preceduto dagli squili del corno, Galateo veniva pian piano per i viottoli deserti, con l'alto bastone in mano e la lunga veste tutta stracciata che toccava terra. Aveva lunghi capelli gialli stopposi e una tonda faccia bianca, già un po' sbertucciata dalla lebra. Raccoglieva i doni, li metteva nella sua gerla e gridava dei ringraziamenti verso le case dei contadini nascosti con la sua voce emelata, emettendoci sempre qualche allusione da ridere o maligna. A quei nostri tempi, nelle contrade vicine al mare, la lebra era malediffuso e c'era vicino a noi un paesetto, Prato Fungo, abitato solo dalle prosi, ai quali eravamo tenuti a corrispondere dei doni che appunto raccoglieva Galateo. Quando qualcuno della marina o della campagna veniva accolto dalla lebra, lasciava apparenti amici e andava a Prato Fungo a passare il resto della sua vita, attendendo d'essere divorato dal male. Si parlava di grandi feste che accoglievano ogni nuovo giunto. Da lontano si sentivano fino a notte salire dalle case dei lebrosi suoni e canti. Molte cose si dicevano di Prato Fungo, sebbene nessuno dei sani mai vi fosse stato, ma tutte le voci erano concordanti nel dire che là la vita era una perpetua baldoria. Il paese prima di diventare asilo di lebrosi era stato un copo di prostitute dove convenivano marinai d'ogni razza e d'ogni religione. E pareva che ancora le donne vi conservassero i costumi licenziosi di quei tempi. I lebrosi non lavoravano la terra, tranne che una vigna d'uva fragola il cui vinello li teneva tutto l'anno in stato di sottile brezza. La grande occupazione dei lebrosi era suonare strani strumenti da loro inventati, arpe alle cui corde erano appesi tanti campanellini, e cantare in falsetto e dipingere le uova con pennellate d'ogni colore come fosse sempre Pasqua. Così, struggendosi in musiche dolcissime, con ghirlande di gessomino intorno ai visi sfigurati, dimenticavano il consorzio umano dal quale la malattia li aveva divisi. Nessun medico nostrano aveva mai voluto prendersi cura delle lebrosi. Ma quando Celloni si stabilì tra noi, qualcuno sperò che egli volesse dedicare la sua scienza a sanare quella piaga delle nostre regioni. Anch'io condividevo queste speranze nel mio modo infantile. Da tempo avevo una gran voglia di spingermi fino a Pratofungo ed assistere alle feste delle lebrosi. E se il dottore si fosse messo a sperimentare i suoi farmaci sugli sventurati, ma avrebbe forse qualche volta permesso ad accompagnarlo fin dentro il paese. Ma nulla di questo avvenne. Appena sentiva il corno di Galateo, il dottor Treloni scappava a gambe levate e nessuno sembrava aver più di lui paura del contagio. Qualche volta cercai di interrogarlo sulla natura di quella malattia, ma lui diede risposte evasive e smarrite, come se la parola lebra bastasse ammetterlo a disagio. In fondo non so perché ci ostinassimo a considerarlo un medico. Per le bestie, specie le più piccole, per le pietre, per i fenomeni naturali, era pieno d'attenzione. Ma gli esseri umani e le loro infermità lo riempivano di ripugnanza e sgomento. Aveva orrore del sangue, toccava solo con la punta delle dita gli ammalati e di fronte ai casi gravi si tamponava il naso con un fazzoletto di seta bagnato nell'aceto. Pudico come una fanciulla al vedere un corpo nudo arrossiva. Se poi si trattava ad una donna, teneva gli occhi bassi e balbettava. Donne, nei suoi lunghi viaggi per gli oceani, pareva non ne avesse conosciute mai. Per fortuna da noi, a quei tempi, i parti erano faccende da allevatrici e non da medici, se no chissà come si sarebbe tratto d'impegno. A mio zio venne l'idea degli incendi. Nella notte tutta un tratto, un fienile di miseri contadini bruciava, o un albero da legna, o tutto un bosco. Si stava fino a mattino allora a passarci di mano in mano secchi d'acqua per spegnere le fiamme. Le vittime erano sempre poveracci che avevano avuto da dire col visconte per qualcuna delle sue ordinanze sempre più severe e ingiuste, o per i balzelli che aveva raddoppiato. Non contento di incendiare i beni, prese a dar fuoco agli abitanti. Pareva che s'avvicinasse di notte, lanciasse esche infuocate sui tetti e poi scappasse a cavallo, ma mai nessuno riusciva a coglierlo sul fatto. Una volta morirono due vecchi, una volta un ragazzo restò col cranio come scuoiato. Nei contadini l'odio contro di lui cresceva. I suoi più ostinati nemici erano le famiglie di religione ugonotta che abitavano i casolari di Colgerbido. Là gli uomini montavano la guardia a turno tutta la notte per prevenire incendi. Senza alcuna ragione plausibile, una notte andò fin sotto le case di Pratofungo che avevano i tetti di paglia, lanciò contro pece e fuoco. I lebrosi hanno quella virtù che, abbruciacchiati, non patiscono dolore e, se colti dalle fiamme nel sonno, non si sarebbero certo più svegliati. Magaloppando via, il visconte sentì che dal paese s'alzava la cavatina ad un violino. Gli abitanti di Pratofungo vegliavano, intenti ai loro giochi. Si scottarono tutti, ma non sentirono male e si divertirono secondo il loro spirito. Spensero presto l'incendio, anche le loro case, forse perché iniettate pure esse di lebra, patirono pochi danni dalle fiamme. La cattiveria di Medardo si rivolse anche contro il proprio avere, il castello. Il fuoco s'alzò dall'ala dove abitavano i servi e divampò tra urla altissime di chi era rimasto prigioniero mentre il visconte fu visto cavalcare via per la campagna. Era un attentato che gli aveva teso alla vita della sua balia e vicemadre, Sebastiana. Con l'ostinazione autoritaria che le donne pretendono di mantenere su coloro che hanno visto bambini, Sebastiana non mancava mai di rimproverare al visconte ogni nuovo suo misfatto, anche quando tutti saranno convinti che la sua natura era votata a un'irreparabile crudeltà. Sebastiana fu tratta malconcia fuori dalle mura carbonizzate e dovette tenere il letto molti giorni per guarire dalle ustioni. Una sera la porta della stanza in cui lei giaceva saperse e il visconte le apparve accanto al letto. Che cosa sono quelle macchie sulla vostra faccia, balia? disse Medardo, indicando le scottature. Un'orma dei tuoi peccati, figlio, disse la vecchia serena. La vostra pelle è screziata e stravolta. Che male avete, balia? Un male che è nulla, figlio mio, rispetto a quello che t'aspetta in inferno se non ti ravvedi. Dovreste guarire presto. Non vorrei si sapesse in giro di questo male che avete. Non ho da prendere marito per curarmi del mio corpo. Mi basta la buona coscienza. Potessi tu dire altrettanto. Eppure il vostro sposo v'aspetta per portarvi via con sé. Non lo sapete? Non deridere la vecchiaia, figlio. Tu che hai avuto la giovinezza offesa. Non scherzo. Ascoltate, balia. C'è il vostro fidanzato che suona sotto la vostra finestra. Sebastiana tese l'orecchio e sentì fuor dal castello il suono del corno dell'ebroso. L'indomani Medardo mandò a chiamare il dottor Treloni. Ma che sospette sono comparse, non si sa come, sul viso di una nostra vecchia servente, disse al dottore. Tutti abbiamo paura che sia lebra. Dottore, ci affidiamo ai lumi della sua sapienza. Treloni si inchinò balbettando. Mio dovere, milord. Sempre ai suoi ordini, milord. Si girò. Uscì. Sgattaiolò via dal castello. Prese con sé un barilotto di vino cancarone e scomparve nei boschi. Non lo si vide più per una settimana. Quando tornò, la valia Sebastiana era stata mandata al paese dei lebrosi. Aveva lasciato il castello una sera al tramonto. Nero vestita e velata, con infilato al braccio un fagotto delle sue robe. Sapeva che la sua sorte era segnata. Doveva prendere la via di Pratofungo. Lasciò la stanza dove l'avevano tenuta fino allora. E non c'era nessuno, né corridoi né nelle scale. Scese attraverso la corte, uscì nella campagna. Tutto era deserto. Ognuno al suo passaggio si ritirava e si nascondeva. Sentì un corno da caccia modulare un richiamo sommesso su due sole note. Avanti sul sentiero c'era Garateo che alzava al cielo la bocca del suo strumento. La valia s'avviò a passi lenti. Il sentiero andava verso il sole al tramonto. Garateo la precedeva ad un lungo tratto. Ogni tanto si fermava come contemplando i calabroni ronzanti tra le foglie. Alzava il corno e levava un mesto accordo. La valia guardava gli orti e le vive che stava abbandonando. Sentiva dietro le siepi la presenza della gente che si allontanava da lei e riprendeva ad andare. Sola, seguendo da distante Garateo, giunse a Pratofungo e i cancelli del paese si chiusero dietro di lei, mentre le arpe e i violini cominciarono a suonare. Il dottor Treloni rimaneva molto deluso. Non aver mosso un dito perché la vecchia Sebastiana non fosse condannata all'ebrosario, pur sapendo che le sue macchie non erano di lebra, era un segno di viltà. E io provai per la prima volta un moto d'avversione per il dottore. S'aggiunga che, quando era scappato nei boschi, non m'aveva preso con sé, pur sapendo quanto gli sarei stato utile come cacciatore di scoiattoli e cercatore di lamponi. Ora, andare con lui per fuochi fatui non mi piaceva più come prima e spesso giravo da solo in cerca di nuove compagnie. Le persone che più mi attraevano adesso erano gli ugonotti che abitavano col gerbido. Era gente scappata di in Francia dove il re faceva tagliare a pezzi tutti quelli che seguivano la loro religione. Nella traversata delle montagne avevano perduto i loro libri, i loro oggetti sacri, e ora non avevano più né Bibbia da leggere, né messa da dire, né inni da cantare, né preghiere da recitare. Difidenti come tutti quelli che sono passati attraverso persecuzioni e che vivono in mezzo a gente di diversa fede, essi non avevano voluto più ricevere alcun libro religioso, né ascoltare consigli sul modo di celebrare i loro culti. Se qualcuno veniva a cercarli dicendosi loro fratello ugonotto, essi temevano che fosse un emissario del papa travestito e si chiudevano nel silenzio. Così si erano messi a coltivare le dure terre di col gerbido e si sfiancavano a lavorare maschi e femmine da prima dell'alba a dopo il tramonto, nella speranza che la grazia li illuminasse. Poco esperti di quel che fosse peccato, per non sbagliarsi, moltiplicavano le proibizioni e si erano ridotti a guardarsi l'un l'altro con occhi severi, spiando se qualche minimo gesto tradisse un'intenzione colpevole. Ricordando confusamente le dispute della loro chiesa, sastenevano dal nominare Dio e ogni altra espressione religiosa, per paura di parlarne in modo sacrilego, così non seguivano nessuna regola di culto e probabilmente non osavano nemmeno formular pensieri su questioni di fede, pur conservando una gravità assorta come se sempre ci pensassero. Invece le regole della loro faticosa agricoltura avevano col tempo acquistato un valore pari a quello dei comandamenti, e così le abitudini di parsimonia a cui erano costretti e le virtù casalinghe delle donne. Erano una gran famiglia piena di nipoti e nuore, tutti lunghi e nodosi, e lavoravano la terra sempre vestiti a festa, neri e abbottonati, col cappello a larghe tese e spioventi gli uomini, e con la cuffia bianca le donne. Gli uomini portavano lunghe barbe e giravano sempre con lo schioppo a tracolla, ma si diceva che nessuno di loro avesse mai sparato, fuorché ai passeri, perché lo proibivano i comandamenti. Dai ripiani calcinosi, dove a fatica cresceva qualche misera vite e dello stento frumento, s'alzava la voce del vecchio Ezechiele che urlava senza posa coi pugni levati al cielo, tremando nella bianca barba caprina, roteando gli occhi sotto il cappello e imbuto. Peste e carestia, peste e carestia, sgridando i familiari chini a lavoro. Dai con quella zappa, Giona, strappa l'erba, Susanna, tovia, spargi il letame. E dava mille ordini e rimproveri con l'astio di chi si rivolge a un branco di netti e di sciuponi, e ogni volta dopo aver gridato le mille cose che dovevano fare, perché la campagna non andasse in malora, si metteva a farle lui stesso, scacciando gli altri d'intorno e sempre gridando, peste e carestia. Sua moglie non gridava mai, invece, e sembrava, a differenza degli altri, sicura ad una sua religione segreta, fissata fin nei minimi particolari, ma di cui non faceva parola ad alcuno. Le bastava guardar fisso, coi suoi occhi tutti pupilla, e dire al labbra tese, ma vi pare il caso, sorella Rachele? Ma vi pare il caso, fratello Aronne? Perché i rari sorrisi scomparissero dalle bocche dei familiari, e le espressioni tornassero gravi e intente. Arrivai una sera col gerbido, mentre gli ugonotti stavano pregando, non che pronunciassero parole e stessero a mani giunte o inginocchiati. Stavano ritti in fila nella vigna, gli uomini da una parte e donne dall'altra, e in fondo il vecchio Ezechiele con la barba sul petto. Guardavano diritto davanti a sé, con le mani strette a pugno, che pendevano dalle lunghe braccia nodose. Ma benché sembrassero assorti, non perdevano la cognizione di quel che li circondava. E Tobia allungò una mano e tolse un bruco da una vite. Rachele, con la suola chiodata, schiacciò una lumaca. E lo stesso Ezechiele si tolse tutta un tratto il cappello per spaventare i passeri scesi sul frumento. Poi intonarono un salmo. Non ne ricordavano le parole, ma soltanto l'aria, e neanche quella bene. E spesso qualcuno stonava, o forse tutti stonavano insieme. Ma non smettevano mai. E finito una strofa ne attaccavano un'altra, sempre senza pronunciare le parole. Mi sentii tirare per un braccio, e c'era il piccolo Esau che mi faceva segno di star zitto e di venire con lui. Esau aveva la mia età. Era l'ultimo figlio del vecchio Ezechiele. De Suoi aveva solo l'espressione del viso dura e tesa, ma con un fondo di malizia forfantesca. Carponi per la vigna ci allontanammo, mentre lui mi diceva «Cena hanno per mezz'ora. Che barba. Vieni a vedere la mia tana». La tana di Esau era segreta. Lui ci si nascondeva perché i suoi non lo trovassero e non lo mandassero a pascolare le capre o a togliere le lumache dagli ortaggi. Vi passava intere giornate in ozio, mentre suo padre lo cercava urlando per la campagna. Esau aveva una provvista di tabacco e appesa a una parete teneva due lunghe pipe di maiolica. Ne riempì una e volle che fumassi. Mi insegnò ad accendere e gettava grandi boccate con un'avidità che non avevo mai visto in un ragazzo. Io era la prima volta che fumavo. Mi venne subito male e smisi. Per infrancarmi Esau tirò fuori una bottiglia di grappa e mi versò un bicchiere che mi fece tossire e torce le budella. Lui lo beveva come fosse acqua. «Per ubriacarmi ce ne vuole», disse. «Dove hai preso tutte queste cose che tieni nella tana», gli chiesi. Esau fece un gesto rampante con le dita. «Rubate». Si era messo a capo di una banda di ragazzi cattolici che saccheggiavano le campagne attorno e non solo spogliavano gli alberi da frutta, ma entravano anche nelle case e nei pollai. Ne bestemmiavano più forte e più semplicemente perfino di mastro Pietro Chiodo. Sapevano tutte le bestemmie cattoliche e ugonotte e se le scambiavano tra loro. «Ma faccio anche tanti altri peccati», mi spiegò. «Dico falsa testimonianza. Mi dimentico di dar acqua ai fagioli. Non rispetto il padre e la madre. Torno a casa la sera tardi. Adesso voglio fare tutti i peccati che ci sono, anche quelli che dicono che non sono abbastanza grande per capire». «Tutti i peccati», io gli dissi. «Anche ammazzare». Si strinse nelle spalle. «Ammazzare adesso non mi conviene e non mi serve». «Mio zio ammazza e fa ammazzare per gusto», dicono. Feci io per aver qualcosa da parte mia da contrapporre a Esau. Esau sputò. «Un gusto da scemi», disse. Poi tuonò e fuori della tana prese a piovere. «A casa ti cercheranno?», dissi a Esau. «A me nessuno mi cercava mai, ma vedevo che gli altri ragazzi erano sempre cercati dai genitori, specie quando veniva brutto tempo, e credevo fosse una cosa importante». «Ma aspettiamo qui che spiova», disse Esau. «Intanto giocheremo ai dadi». Tirò fuori i dadi e una pila di denari. Denaro io non ne avevo, così mi giocai zufoli, coltelli e fionde, e persi tutto. «Non scoraggiarti», mi disse alla fine Esau. «Sai, io baro». Fuori tuoni e lampi e pioggia di rotta. La grotta d'Esaú s'andò allagando. Lui mise in salvo il tabacco e le altre sue cose e disse «Diluvierà tutta notte. È meglio correre a ripararci a casa». Eravamo zuppi infangati quando arrivamo al casolare del vecchio Ezechiele. Gli ugonotti erano seduti intorno al tavolo, alla luce d'un lumino, e cercavano di ricordarsi qualche episodio della Bibbia, vadando bene a raccontarli come cose che pareva loro d'aver letto una volta, di significato e verità insicuri. «Peste e carestia», gridò Ezechiele, menando un pugno sul tavolo che spense il lumino, quando suo figlio Esau comparve con me nel vano della porta. Io presi a battere i denti e Esau fece spallucce. Fuori sembrava che tutti i tuoni e i fulmini si scaricassero su col gerbido. Mentre riaccendevano il lumino, il vecchio coi pugni alzati enumerava i peccati di suo figlio come più nefandi che mai essere umano avesse commesso, ma non ne conosceva che una piccola parte. La madre assentiva muta e tutti gli altri figli e generi e nuore nipoti ascoltavano col mento sul petto e il viso nascosto tra le mani. Esau morsicava una mela, come se quella predica non lo riguardasse. Io, tra quei toni e la voce d'Ezechiele, tremavo come un giunco. La sgridata fu interrotta dal ritorno degli uomini di guardia, con sacchi per cappuccio, tutti zuppi di pioggia. Gli ugonotti facevano la guardia a turno per tutta la nottata armati di schioppi, roncole e forche fienaie per prevenire le incursioni proditorie del visconte, ormai il loro nemico dichiarato. Padre Ezechiele, dissero quegli ugonotti, una notte da lupi. Certo, lo zoppo non verrà. Possiamo ritirarci in casa, padre. Non ci sono segni del monco intorno? chiese Ezechiele. No, padre, se si eccettua al puzzo di bruciato che lasciano i fulmini. Non è notte per l'orbo questa. Restate in casa e cambiatevi panni allora, che la tempesta porti pace allo sfiancato e a noi. Lo zoppo, il monco, l'orbo, lo sfiancato, erano alcuni degli appellativi con cui gli ugonotti indicavano mio zio. Nelli sentì mai chiamarlo col suo vero nome. Essi ostentavano in questi discorsi una specie di confidenza col visconte, come se la sapessero lunga su di lui, quasi lui fosse un antico nemico. Si lanciavano tra loro brevi frasi accompagnate da micchie risatine. Il monco, proprio così il mezzo sordo, come se tutte le tenebrose follie di Medardo fossero per loro chiare e prevedibili. Stavano così parlando quando nella bufera sudì un pugno battuto alla porta. «Che bossa con questo tempo!» disse Ezechiele. «Presto, gli si è aperto!» Aprirono e sulla soglia c'era il visconte ritto sull'unica gamba, avvolto nel nero mantello stillante col cappello piumato fradicio di pioggia. «Ho legato il mio cavallo nella vostra stalla», disse. «Date ospitalità anche a me, vi prego. La notte è brutta per il viandante». Tutti guardarono Ezechiele. Io m'ero nascosto sotto il tavolo perché mio zio non scoprisse che frequentavo quella casa nemica. «Sedetevi al fuoco», disse Ezechiele. «L'ospite in questa casa è sempre il benvenuto». Vicino alla soglia c'era un mucchio di lenzuoli, di quelli da stendere sotto gli alberi per raccogliere le olive. Medardo ci si sdraiò e si addormentò. Nel buio gli ugonotti si raccolsero attorno ad Ezechiele. «Padre, l'abbiamo in nostra mano ora, lo zoppo», gli sbigliarono. «Dobbiamo lasciarcelo scappare? Dobbiamo permettere che commetta altri delitti contro gli innocenti?» «Ezechiele, non è giunta l'ora che paghi il fio, lo snaticato». Il vecchio alzò i pugni contro il soffitto. «Peste carestia», gridò. «Se si può dire che gridi chi parla senza emetter quasi suono, ma con tutta la sua forza. In casa nostra nessun ospite ha mai ricevuto torto. Andrò a montare la guardia io stesso per proteggere il suo sonno». E con lo schioppo a tracolla si piantò accanto al visconte coricato. L'occhio di Medardo saperse. «Che fate lì, mastro Ezechiele? Proteggo il vostro sonno, ospite. Molti vi odiano». «Lo so», disse il visconte. «Non dormo al castello perché temo che i m'uccidano nel sonno». «Neppure in casa mia, vamiamo, mastro Medardo. Però stanotte sarete rispettato». Il visconte stette un poco in silenzio, poi disse «Ezechiele, voglio convertirmi alla vostra religione». Il vecchio non disse nulla. «Sono circondato da gente infida», continuò Medardo. «Vorrei disfarmi di tutti loro e chiamare gli ugonotti al castello. Voi, mastro Ezechiele, sarete il mio primo ministro. Dichiarerò terralba territorio ugonotto e inizierò la guerra contro i principi cattolici. Voi e i vostri familiari sarete i capi. Siete d'accordo, Ezechiele? Potete convertirmi?» Il vecchio stabaritto immobile, col grampetto attraversato dalla banda del fucile. «Troppe cose ho dimenticato della nostra religione», disse, «perché possa usare di convertir qualcuno. Io resterò nelle mie terre secondo la mia coscienza, voi nelle vostre con la vostra». Il visconte salsò sul gomito. «Sapete, Ezechiele, che non ho ancora reso conto all'inquisizione della presenza d'eretici nel mio territorio, e che le vostre teste mandate in regalo al nostro vescovo mi farebbero tornare subito nelle grazie della curia?» «Le nostre teste sono ancora attaccate ai nostri colli, signore», disse il vecchio. «Ma c'è qualcosa che è ancora più difficile strapparci». Medardo balzò in piedi e aperse l'uscio. «Dormirò più volentieri sotto quella rovere laggiù che in casa di nemici». E saltò via sotto la pioggia. Il vecchio chiamò gli altri. «Pigli, era scritto che per primo venisse lo zoppo a visitarci. Ora se n'è andato. Il sentiero della nostra casa è sgombro. Non disperate, figli. Forse un giorno passerà un miglior viandante». Tutti i barbuti, ugonotti e le donne incuffiettate chinarono il capo. «E se anche non verrà nessuno», aggiunse la moglie d'Ezechiele, «Noi resteremo al nostro posto». In quel momento una folgore squarciò il cielo e il tuono fece tremare le tegole e le pietre delle mura. Tobia gridò. «Il fulmine è caduto sul rovere. Ora brucia!» Corsero fuori con le lanterne e videro il grande albero carbonizzato per metà. Dalla vetta alle radici e l'altra metà era intatta. Lontano sotto la pioggia sentirono gli zoccoli d'un cavallo e a un lampo videro la figura ammantellata del sottile cavaliere. «Tu ci hai salvato, padre», dissero gli ugonotti. «Grazie, Ezechiele». Il cielo si schiariva levante e c'era l'alba. Esaù mi chiamò in disparte. «Dì se sono scemi», mi disse Piano. «Guarda io intanto cosa ho fatto». E mostrò una manciata d'oggetti luccicanti. «Tutte le borchie d'oro della sella li ho preso mentre il cavallo era legato nella stalla. Dì se sono stati scemi loro a non pensarci». Questo modo di fare di Esaù non mi garbava e quello dei suoi parenti mi metteva a soggezione. E allora preferivo starmene per conto mio e andare alla marina a raccogliere patelle e a cacciar granchi. Mentre su una punta di scoglio cercavo di stanare un granchiolino, vidi nell'acqua calma sotto di me specchiarsi una lama sopra il mio capo e dallo spavento caddi in mare. «Tienti qua», disse mio zio perché era lui che si era avvicinato alle mie spalle e voleva m'afferrarsi alla sua spada dalla parte della lama. «No, faccio da me», risposi e mi arrampicai su uno sperone che un braccio d'acqua separava dal resto della scogliera. «Vai per granchi?», disse Medardo. «Io per polpi». E mi fece vedere la sua spada. Erano grossi polpi bruni e bianchi, erano tagliati in due con un colpo di spada, ma continuavano a muovere i tentacoli. Così si potesse dimezzare ogni cosa intera», disse mio zio coricato bocconi sullo scoglio, carezzando quelle convulse metà di polpo. Così ognuno potesse uscire dalla sua ottusa e ignorante interezza. Ero intero e tutte le cose erano per me naturali e confuse, stupide come l'aria. Credevo di veder tutto e non era che la scorza. Se mai tu diventerai metà di te stesso, e te l'auguro, ragazzo, capirai cose al di là della comune intelligenza dei cervelli interi. Avrai perso metà di te e del mondo, ma la metà rimasta sarà mille volte più profonda e preziosa. E tu pure vorrai che tutto sia dimezzato e straziato a tua immagine, perché la bellezza e sapienza e giustizia ci sono solo in ciò che è fatto a brani. «Uh, uh», dicevo io, «che moltitudine di granchi qui!» E fingevo interesse solo alla mia caccia per tenermi lontano dalla spada di mio zio. Non tornai a riva finché non si fu allontanato coi suoi polpi, ma l'eco delle sue parole continuava a turbarmi e non trovavo riparo a questa sua furia dimezzatrice. Da qualsiasi parte mi voltassi, tre louni, pietro chiodo, gli ugonotti, le brosi, tutti eravamo sotto il segno dell'uomo dimezzato. Era lui il padrone che servivamo e da cui non riuscivamo a liberarci.